L'ex primo cittadino di San Biagio Platani, finito in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del Max Blitz Montagna, è stato protagonista assoluto dell'udienza che si è tenuta davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato con all'ateri i giudici Giuseppe Zampino e Alessandro Quattrocchi. Contrariamente a quanto si potesse pensare l'ex sindaco ha deciso di rispondere alle domande della sua stessa difesa, gli avvocati Gazziano e Mormino, e dell'accusa sostenuta in aula dal PM della DDA di Palermo, Alessia Sinatra. Sabella respinge l'accusa di aver pilotato appalti in favore di uomini di Cosa Nostra. Pur avendo, dice, la possibilità di assegnare direttamente le gare d'appalto quando le gare vanno deserte, di queste vicende si è sempre occupato l'Urega. Conferma di conoscere Giuseppe Nugara, che l'operazione Montagna svela essere il nuovo boss di San Biagio Platani, ma soltanto dice perché compagni di scuola fin dai tempi delle elementari e aggiunge in ogni caso come poteva immaginare il ruolo di Nugara, se lo stesso risultava essere incensurato in possesso di portodarmi, nonché fratello di un noto esponente politico del paese. Poi tenta di spiegare un'intercettazione già agli atti in cui parla proprio con Giuseppe Nugara facendo riferimento a tale Antonio che per gli inquirenti è uno dei carabinieri della stazione di San Biagio Platani. In quell'intercettazione afferma, mi riferivo alle telecamere che dovevano essere installate per la diretta streaming e il consiglio comunale su proposta del Movimento 5 Stelle. È preciso che l'Antonio di cui si parlava non è il carabiniere, ma un mio avversario politico.